Fervono i preparativi per la diciassettesima Sagra della Cipolla Cassoclip in Viale Bonfiglio. Quest'anno il tema della manifestazione è la cipolla regina della cucina. Vedete che al centro di Viale Bonfiglio è stata costruita, ad opera di Lilo Marturana, dello staff creativo che si occupa della sagra, è stata costruita questa struttura che appunto vede troneggiare la cipolla sopra una corona dorata e tutti i frutti, diciamo, frutti della terra tipici delle costruzioni di cattolipesi. Appunto quest'anno si vuole valorizzare la cipolla nel suo uso culinario, quindi capace di impreziosire numerosissimi piatti, utilizzata praticamente ovunque.